Al bar Pasticceria del San Francisco Museum of Art, la pausa caffè diventa artistica grazie alle torte in stile Mondrian Matisse o Frida Kahlo offerte dal menù. L'originale iniziativa si deve alla fantasia e all'abilità della giovane barista che trasforma un semplice trancio di torta in un mini capolavoro d'arte moderna del tutto commestibile.